Partita che sta per cominciare qui al Diamex Stadium, cantano i tifosi delle due squadre per scaldare l'ambiente. Bentrovati amici da parte di Piero Gepardo e Lelia Dani, pronti per il commento. Match di Bundesliga che potrete seguire live su queste frequenze. Di scena Friburgo e Borussia Dortmund. C'è tensione nell'aria e non oso immaginare come sia la situazione in campo, Piero. Di sicuro, però, stiamo per assistere a una partita entusiasmante e ricca di emozioni. Da non perdere. L'unice di partenza ha scelto dal tecnico per questa sfida. Per questa sfida hanno scelto una versione piuttosto offensiva, il passio 4-5-1, perché gli esterni hanno le caratteristiche e la capacità di andare. A loro il tecnico avrà chiesto una partita di grande sacrificio, Piero, per dare una mano all'unica punta di ruolo. Vediamo l'undici di partenza del Borussia Dortmund. 4-3-3 il loro modulo di partenza con una punta d'aria di rigore e due attaccanti larghi che dovranno provare gli uno contro uno. Occhio alla loro velocità. E questo è un assetto che potrebbe creare più di qualche grattacapo alla difesa avversaria, Piero. Dovranno sempre tenere d'occhi tre davanti e raddoppiare l'occorrenza alla marcatura. Si comincia. La gioca lunga verso il compagno. Prova l'affondo grifo. Spazza via il cross Hummels. Occhio all'avanzata del Dortmund. Se ne va via la grande. Punta la porta, non ho più che nessuno. Attenzione, gol che viene annullato per fuori gioco. Protesta i tifosi, protesta la panchina, ma la posizione irregolare c'era. E va giunto Pierre che era difficile coglierla. Grande chiamata qui. C'è l'errore, palla regalata. Brasso. Reus. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Conclusione che si è persa abbondantemente sul fondo. Viene ripreso dai compagni perché non tutti hanno apprezzato la sua decisione. Modesto. Occhio a Reus. Pallone che è uscito, efficace qui il pressing. Ottimo il pressing qui. Recupera un gran pallone nella metà campo avversaria. Grande apertura. Una parata incredibile. Risultato che non cambia. Il portiere ha blindato il pari, ma l'intervento è l'applauso sul tentativo precedente. Occhio all'avanzata del Dortmund. La risposta del portiere, ma attenzione. E' parere in rete. Ha approfittato dell'intervento del portiere. E ha piazzato senza problemi. Rivediamolo. Eccolo il gol. Portiere non esattamente impeccabile. Sulla prima conclusione poteva decisamente fare meglio. Quell'attaccante è stato pronto a piombare sulla respinta. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Riconquistano il pallone. Guerreiro. Guerreiro. Modesto. Lo vede? Può metterla in aria. Branzo. Daoud. Inchioribile questa parata. Palla in aria di rigore. Sicuro qui il portiere. E lo ferma. Passaggio intercettato. Modesto. Tentativo di traversone. Distinto il difensore. Pazza via. Buona lettura di Reus. Occhio all'avanzata del Dortmund. Ed ecco ancora Reus. Bravo qui nell'interrompere tutto. Buono il Devae. Arriva Reus. muovono bene il pallone qui. Prova con questo pallone. Il portiere legge bene la traiettoria e interviene. Il recupero sarà di un minuto. L'arbitro manda tutti negli sfogliatoi per il momento. 1-0 dopo i primi 45. E' stato tra i migliori in campo dei suoi, certamente, nel primo tempo. Può essere soddisfatto della sua prova. Ha chiuso avanti la prima frazione grazie a un suo gol. E a parte questo... Si torna in campo per la ripresa col Dortmund avanti. Brandt. Malen. Ha recuperato il pallone senza fallo. Interviene e recupera palla. Occhio all'avanzata del Dortmund. Malen. Palla recuperata. Azione interrotta. C'è spazio per la ripartenza. Malen. Tacco robusto. Palla persa. Tenta la verticalizzazione. Buona idea. Possono trovare il gol del pari. Attenzione. Una grandissima parata questa. Apre su Grifo. Recupera bene il pallone. Portiere che ha risposto presente sulla conclusione di poco fa. La parata è pazzesca. L'ha tolta letteralmente dalla propria porta. I tifosi qui in tribuna erano già pronti a esultare. Arbitro che fischia visto che di fatto non c'era una situazione di vantaggio. L'allenatore non vuole cale di tensione. Allora ecco questo cambio per conservare il vantaggio. Modesta. C'è la norma del vantaggio per il Dortmund. L'arbitro fischia. Ferma il gioco. Non c'è la norma del vantaggio. Azione punita con il cartellino giallo. L'arbitro ha semplicemente applicato regolamento. Intervento in scivolata. Ma che prende nettamente le gambe dell'avversario. Non il pallone. Reus. Barriera. Possono ripartire. Attenzione. Vediamo cosa inventa ora. Attacco che sfuma merito del buon lavoro difensivo. Brand. Bellingham. Occhio all'avanzata del Dortmund. Buono il possesso palla del Dortmund. La perdono. Pete a sé. Il tocco per Grifo. Brutto fallo del giocatore del Dortmund. Vediamo se c'è il cartellino. Arbitro che fa capire chiaramente che non tollererà altri interventi del genere. Pierre, mi sono sempre piaciuti gli arbitri che parlano con i giocatori. Perché il dialogo, ma è fondamentale per creare un clima favorevole, anche per stemperare gli animi in campo. C'è la sostituzione per dare energie e forze fresche in questa gara. Prova il tiro in porta. Una soluzione interessante, ma grande sicurezza da parte del portiere. Ecco Grifo. Può metterla da lì. La mette dentro e adesso è tutto in parità. Questo replay del golf. Hanno segnato nel momento più difficile forse del match per loro. Stavano soffrendo la pressione avversaria terribilmente. Questa rete potrebbe anche cambiare gli umori in campo. Hanno pareggiato. Dunque, uno a uno. Dortmund che non si accontenta. Vuole la vittoria e spinge in questo finale. Buono l'intercento della difesa. Contrasto efficace. Palla che esce. Sarà rimessa. Emre Can. Buono il possesso palla del torno. Si chiude qui l'azione col pallone riconsegnato agli avversari. Attenzione, hanno la possibilità del contropiede. Provano a sfruttare bene il campo. A tempo e spazio per crossare. La legge bene intercetta il pallone. Ancora tre minuti da giocare. Guerreiro. Emre Can. Guerreiro. Cross murato dal difensore. Corner dunque per l'ultimo tocco di un difensore. Ci sarà una sostituzione. Corner battuto in mezzo. Finisce qui l'azione all'attacco. Baragna Metri. La mette sul primo palo. Parità allo scadere del novantesimo.